ciao ragazzi bentornati su microne ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video e ci siamo qui tornati finalmente con l'assemblaggio effettivo del nostro favolosissimo pc con budget di 250 euro circa difatti se avete seguito il primo episodio che ho fatto su questa mini serie se vogliamo così definirla vi ho raccontato un po' in linea di massima quello che ho fatto per avere tutti questi componenti eccetera eccetera e nel caso ve lo siete persi mi invito a andarlo a recuperare e quest'oggi quello che faremo è appunto a crocchiare tutte queste cose assieme e vedere che cosa esce fuori sono abbastanza fiducioso del tutto ma mai dire sacco se non c'era nel gatto no è il contrario mai dire gatto se non c'era nel sacco è giusto boh non lo so ma perché tutte le volte devo dire cose che non stanno né in cielo né in terra ma è incredibile e quindi benvenuti con questo nuovissimo video che teoricamente dovrebbe essere l'ultimo in cui assembliamo tutto il pc e infine andiamo a fare qualche test tra l'altro fatemi sistemare qualche piantina qua là sennò tutto diventa troppo triste a parte gli scherzi prima di cominciare come sempre vi ricordo mi raccomando di sostenere il canale lasciando un bel like esattamente qui sotto iscrivetevi ed attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e detto questo beh basta parlare perché sennò qui facciamo veramente poco molto bene quindi l'ambaradam di cose che qui abbiamo belle fresche fresche sono proprio quelle che vedete qui sul tavolo beh anche perché se non dove ovviamente ci tengo a ribadire il fatto che se vi siete persi il video precedente andate a recuperarlo perché sennò non capireste nulla tutto l'ambaradam e quest'oggi oltre che fare un assemblaggio e cose così volevo un po' parlare con voi della questione su come si è riuscito a realizzare questo pc alcuni consigli alcune cose se magari vorreste anche voi buttarvi sul mondo dell'usato per caravi qualcosa adesso che purtroppo di schede video non ce ne sono anche se in questo caso beh abbiamo un bel gioiellino qui dentro poi oddio chiamarlo gioiellino una scheda video normale però tuttavia ci potrebbe consentire di giocare tranquillamente i nostri giochi questo è il case che andremo a utilizzare non ve l'avevo fatto vedere l'altra volta però adesso insomma ce l'abbiamo qui e ci andremo a montare dentro le cose in più dallo scorso video c'è anche una new entry che è proprio lei ovvero una scheda audio perché tra una cosa e l'altra ho scoperto che alla fine della fiera questa scheda madre qui avevo smesso di utilizzarla perché questo è uno dei componenti che ho reciclato da una vecchia build ha purtroppo tutto il sistema dell'audio che non funziona per niente comunque teoricamente dovremmo sistemare con quello e intanto andiamo un po' ad assemblare i primi pezzi naturalmente tocchiamo anche la massa così facciamo contento il nostro marco di MWVblog non so se mai guarderà questo video o se quantomeno voi lo conosciate perché appassionato di elettronica fa davvero video molto molto carini comunque il processore che andremo a utilizzare è proprio lui ovvero il resin 5 1600 e mi si sta già surriscaldando la videocamera partiamo molto bene e andiamo ad adagiare il nostro processorino nei rispettivi alloggi seguendo il famosissimo triangolino ma tra l'altro quanta passa termica c'era su questo vecchio processore è assurdo ho voluto anche fare un change nel senso che avrei potuto montare il classicissimo dissipatore stock che mi avevano dato insieme al processore ho visto che avevo già in casa l'arctic freeze 34 e sports esattamente questo bel dissipatorino che ormai non utilizzo più ho detto boh lo sostituisco a quello così almeno facciamo qualcosa di più carino ed efficiente per quanto riguarda la pasta termica utilizzo questa qui la MX5 sempre di arctic di cui tra l'altro ci avevo anche fatto un video tempo fa se non ricordo male direi che il chicone è anche bello che abbondante ma insomma non siamo di risparmio anche se la build non dice lo stesso adesso prima di montare la ventola chiaramente mettiamo il nostro banchetto di ram così siamo felici e contenti e tra l'altro la storia di questo banchetto di ram è molto carina perché mi son fatto praticamente metà torino che è la città in cui abito in bici per andare a recuperarlo perché sul marketplace di facebook ci stava una signora che appunto lo vendeva e quindi visto che il prezzo conveniva ho detto boh non me lo faccio scappare mi faccio questi chilometri in bici e boh chi si è visto si è visto consiglio se volete farvi un pc anche voi di dare un'occhiata a questo fantasmagorico marketplace di facebook perché si trovano davvero tante ma tante di quelle occasioni che voi non avete manco idea a partire dalle ram come in questo caso ma anche per il case casche da video soprattutto se trovate le giuste offerte e le giuste persone che non vi scammano siete a posto adesso andiamo a mettere l'SSD di tipo M2 che sarà diciamo la memoria primaria per quanto riguarda l'archiviazione anche se è da 120 giga ma per installarci il sistema operativo e basta fa più che bene bene quindi parlando e ridendo e scherzando qui abbiamo montato tutto quanto o perlomeno tutto il necessario adesso spostiamo tutto all'interno del case in realtà questo case è abbastanza piccolo se uno ci pensa perché questa è appunto la mia mano e questo è lo spazio che ci sta all'interno non è eccessivamente grosso però non è che ci dobbiamo fare un impianto custom liquid allora direi di in primi si deve andare a mettere l'alimentatore nel rispettivo alloggio da questo qui faccio uscire solamente tre cavi che sono quello della scheda video quello della cpu che faccio passare da sopra ed infine quello della scheda video che facciamo passare da qui sotto il restante lo vado a imboscare qui dentro non prima di aver messo il miticissimo hard disk e adesso signore e signore è arrivato il momento più eclatante di tutti quanti ovvero inserire la scheda video che poi oddio dire eclatante è un po' esagerato però guardate qui che bellezza questo qui non è stato particolarmente il pezzo più semplice da trovare di tutta la configurazione però alla fine guardate qui che spettacolo veramente troppo 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 bello mi piace davvero un casino questo modello di asus rog ma adesso andiamo inserirlo perché è arrivato il suo momento mettiamogli giusto una vite non si sa mai gli venga voglia di scappare che è difficile trovarla soprattutto ripeto di questi periodi diamo l'alimentazione e signori signori abbiamo concluso questo dovrebbe essere il pc completo e finito adesso ci manca da mettere l'apparatia e poi la parte dietro e poi sperare che appunto si accenda altrimenti è un problema visto che praticamente comunque di ventole non ce ne sono dai ne metto solo una rgb nel posteriore così da dargli la tamarraggine che gli spetta e per fare qualche fps in più ovviamente molto bene quindi adesso colleghiamo l'alimentazione vediamo se tutto quello che abbiamo fatto fino ad adesso avrà avuto un senso oppure no e quindi 3, 2, 1 eh perché non parti? ah ok no ho sbagliato tasto chiedovenia rifacciamo 3, 2, 1 boom funziona incredibile ok quindi ben ritrovati è passato per voi pochissimo tempo anzi pochi istanti per me sono passati giorni, mesi, anni, decenni no beh a parte gli scherzi in questo lasso di tempo ho avuto modo di poter provare il pc capire le funzionalità e quant'altro ho provato alcuni giochi naturalmente non tutti quanti perché sarebbe stato un po' impossibile considerando che di spazio di archiviazione qui non ce n'è infinito ma è abbastanza limitato però comunque ho provato i classiconi quindi che ne so un GTA V, un Call of Duty Warzone Fortnite cos'altro ho provato beh League of Legends non si può contare perché insomma non è un gioco super pesante poi vabbè Eurotrack Simulator poi cos'altro ho provato anche FIFA insomma ho provato un po' di cosine non ho sicuramente ottenuto le performance di un pc con un i9 e 2.080 2.3.090 messa assieme però comunque sia non ci si può lamentare poi considerando comunque che è stato fatto con 250 euro beh in quel caso lì non si può dire assolutamente nulla ma tralasciando questo discorso è fattibile giocare con questo pc? assolutamente sì bene o male tutti quanti i giochi che ho provato sono rimasti sui 60 fps e 1080p a dettagli medio in alcuni casi anche molto alti forse l'unico gioco con cui ho fatto un po' fatica a raggiungere i 60 fps tutto minimo è stato Warzone ma Warzone si sa è un gioco abbastanza molto pesante quindi me lo potevo anche aspettare come poi d'altronde è successo però comunque con qualche settaggio messo lì nella posizione corretta beh si è riuscito tranquillamente a fare una partita ho sistemato anche la questione audio che prima come vi dicevo all'inizio del video non funzionava su questo pc poiché così di base naturalmente non potevamo né utilizzare i connettori dietro della scheda madre né quelli sulla parte frontale non lo so magari si sarà rotto qualche condensatorino piccolino non lo so fatto sta che ho risolto tutto cavandomela tra virgolette con i soli 18 euro aggiungendo una scheda audio esterna e sebbene ci abbia impiegato una mattinata per installarci i driver senza l'ausilio di questo dischetto diciamo che non ci pensiamo e basta l'importante è che funzioni effettivamente va per il resto che dirvi ragazzi io sono più che soddisfatto di quello che ne è uscito fuori della build completa ho aggiunto qualcosettina in più ma sarebbe andato tranquillamente molto bene anche con il dissipatore stock di md però avevo quello di arctic quindi mi dispiacevo a non utilizzarlo quello lì dovrebbe costare intorno ai 25 euro circa e ve lo consiglio per tutto quello che riguarda il mondo dell'usato consigli cosa mi conviene fare o meno una cosa sola vi posso dire è cercate 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 io tutto quello che vedete bene o male l'ho accumulato nel corso di settimane cercando e cercando sia su ebay sia su subito.it sia sul marketplace di facebook mi raccomando tenete a mente questo e poi vabbè altri siti qui e là però fondamentalmente vi consiglio questi tre e un consiglio che vi posso dare è assolutamente di cercare persone innanzitutto per bene non ovviamente il primo che vi capita che vi da una 1050 una 2080 a 10 euro ma ne tantomeno fidatevi troppo di chi vi vende una scheda video tipo la 1050 a 300 euro è una roba veramente da folli anche considerando il mercato quindi cercate cercate con calma che qualcosa uscirà fuori un po' come d'altro anno è successo a me sicuramente altra cosa interessante per chi vuole realizzare un pc così è quella di cercare su ebay oppure su facebook sempre i venditori che mettono in bundle scheda madre processore e ram anche in quel caso lì si riescono davvero a fare buonissimi affari ma fate mi raccomando attenzione a quello che prendete soprattutto perché magari rischiereste di prendere dei componenti troppo vecchi per il resto quindi questo è appunto quello che è stato il mini progetto per la realizzazione di un pc con 250 euro non chiedetemi assolutamente di fare una build con budget inferiore perché penso sia impossibile ma non del tutto fatemi sapere qui sotto la vostra nei commenti magari se avete anche voi acquistato qualcosa nell'usato la vostra esperienza raccontatemi un po' di tutto niente io come sempre vi ringrazio per la visione noi ci becchiamo alla prossima vi saluto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti